Ciao ragazzi, benvenuti da Chris in questo nuovo video. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video. Io parlo italiano e francese con San Fais Plus Vite. Allora, oggi vi presento il progetto Passa Inter e Sport. Noi partecipiamo a FIFA 2020, categoria Pro. Siamo iscritti anche su vari siti e sport per partecipare a tornei, campionati. Questo sarà col tempo. Adesso stiamo imparando a giocare insieme e vediamo cosa va. Io gioco, terzino destro, ho preso la numero 4 del capitano, ho messo il mio pseudo. Quando vedete Juve Merda, quello sono io, con la serina gialla in testa, quindi seguiteci. Spero che andate tutto bene, questo è un momento di crisi sanitaria. Siamo tutti un po' così, quindi passo un po' il tempo con FIFA 2020, che quasi parla a luglio per riprendere. Da domani farò un video sul calcio giocato, quello che si sente dire, il mercato, il mercato, si gioca, non si gioca. Quindi di calcio vi parlo domani. Vi invito a seguirci, commentare. Chi vuole partecipare c'è il link e partecipare voi. Quindi, ragazzi, il progetto FIFA 2020 è partito, passare l'interesport, è in route, abbiamo messo la demi-finale di hier soir, non la demi-finale, abbiamo messo la demi-finale, e i due matchi decisivi per passare la pool di qualificazione. C'è un derby e un altro match. Quindi, io gioco con il numero 4, l'arriere-droite. Io devo fare le gol, io sono troppo bidone. In l'axe, io ho cercato di fare il meno di cagate possibile. Quindi, il mio nome è Juve Merda. Quando mi dice Juve Merda, c'è me, e con le toile su la tête jaune, c'è me. E dite-nous ce que vous pensez, commentez. Qui vuole integrare l'équipe, il peut répondre già ici, sullo link che io vi mette in la page Facebook. O commentez, après, on vous contattere, et on farà il test. On a une équipe, on può fare 2-3 équipes, on va, on essaye de jouer e réfléchir d'un equipe de foot. On verra, quand tu joues 11 contre 11, c'est super amusant le jouer, et c'est pas évident que ça. Donc, il ne faut pas aller à 5000 sur le ballon, on essaye vraiment de trouver des automatismes, on avait joué des équipes à 11, ce qui c'est des ouf, je dirais, des matchs, vraiment des matchs, parce que ça joue, ça temporise, ça vient de l'arrière. Donc, un bisou, les deux vidéos, et dites-nous ce que vous pensez, toujours, Forts Saint-Inter, et Juve Merda, toujours. Dès demain, j'ai recommencé à faire quelques vidéos sur le foot, qui va reprendre, va pas reprendre, Mercato, pas Mercato, il y a beaucoup de monde qui me contacte. Voilà, je ne vais pas vous oublier, j'espère que vous allez tout bien, la santé, pour toutes vos familles, c'est la chose plus importante. Après, on s'amuse contre ça. Toujours Forts Saint-Inter, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501